Siamo ad Asuni, alla manifestazione Terre di Confine Film Festival, che si svolge ad Asuni già da diversi anni. Siamo stati contenti di aver partecipato come associazione del Cileno del Sardegna. Ringraziamo gli organizzatori di averci dato questa opportunità di far conoscere la nostra realtà. Siamo un'associazione nata già tre anni fa, che raccoglie al suo interno dei soci che hanno come caratteristica di essere figli adottivi. In tutta la Sardegna, dai dati che noi abbiamo dal Tribunale di Minori e del Tribunale di Cagliari, siamo in 500. Questa rassegna cinematografica ci darà la possibilità di lanciare un messaggio che esistiamo come associazione. In più, il nostro obiettivo è quello di poter raggiungere il più possibile di quei cileni adottati in Sardegna, affinché possano con noi proseguire un viaggio nella cultura non solo sarda, ma anche cilena. Sire e cileno, incontrasi in Facebook Cileno del Sardegna, contattano, conversiamo, compartiamo e assieme a alcun che altro carretto è punto. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!